E ciao ragazzi sono Zero e io ci siamo su una nuova serie di GTA 5 che voglio incominciare GTA 5 online questa nuova serie si chiamerà appunto credo gare bastarde non ne ho idea comunque faremo appunto gare scrivetemelo qui sotto nei commenti che gare volete che io faccia e io farò tutte le gare malate bastarde quelle che siano che voi volete che io faccia di conseguenza partiamo subito con la prima gara che è con questi tizi che non conosco ovviamente non parlo con loro loro non mi sentiranno e io non sentirò loro perché li ho mutati tutti quindi cominciamo subito questa fantastica gara in ogni episodio cercherò di fare almeno tre gare e vediamo se riusciremo a vincerle o meno scegliamo subito la macchina e io prenderò sicuramente Eeeh Intorno Ok Crew amore fraterno va bene conferma colore nero ovvio no no che nero aspetta Dov'è? Dov'è? Eccolo qua possiamo andare ragazzi adesso siamo super pronti ah questa qui è una gara oh cazzo mi sa che non è tanto una gara ragazzi potrebbe essere un piccolo deathmatch Ma non importa quindi gare bastarde deathmatch non so cosa sia comunque GTA online cazzeggio puro questo è quanto Quindi cominciamo subito questa gara ho solo 58 mila dollari che peccato cominciamo Ah è una gara GTA quindi ok ok è una gara quindi siamo in gare bastarde c'è quel che c'è e e no la volevo rosa perché mi ha scelta nera Vabbè ragazzi la prossima volta le prenderemo rosa per adesso è nera 3 2 1 e si parte col turbo venga qui lei dove va pensa di infrangere così le regole della strada Eh eh oh cazzo ci sono dei turbi aspettate devo andare di qua oddio oddio mi hanno speronato cazzo ah ok che ok Mi sono scordato come si gioca ragazzi potremmo arrivare ultimi ma ultimi ultimi proprio porca puttana è a me che metto la prima visuale Ok andiamo li recupereremo ragazzi non preoccupate buongiorno lei e forca puttana ho delle armi per cortesia Oh ho una bomba adesiva non ci gioco da parecchio tempo a GTA minchia Ehi non ci gioco da parecchio tempo a GTA lurido figlio di buona donna non c'è bisogno di perdere così E lei buongiorno a viso mica oh cristo Come ho fatto dannato bastardo Ok morirai morirai morirete tutti ecco io contro l'auto cioè contro la cosa non importa via via non mi prende Eh oddio oddio schivo tutto guardalo guardalo come schiva guardalo come lancia un missile a caso e lo prende Grandissimo grandissimo schiva tutto schiva tutto E lancia un missile all'indietro contro il vuoto va bene così Ah sono secondo ah minchia sono secondo sul secolo c'è questo dietro E C'era il checkpoint oh cazzo E dera fata dera fata vai con la deba Buongiorno signore Alla macchina è un po' spasciata non vorrei dirglielo però Non so neanche sparare questi questo è il problema E No all'ho mancato Spara in volo Oh mio dio questa era da 0 0 0 7 5 2 No era da non lo so da fast and furious Eh anche se fast and furious Oh cazzo Ok ok possiamo rimontare Eh oddio oddio quello mi cago addosso quando c'è la gente dietro ragazzi Ok vai che lo prendo Eh vaffanculo però dai ho preso la scatola di legno Vai Eh Facciamo 360 no scopo ragazzi Oh mio dio Oh mio dio Ok Cosa fa quest'uomo Eh mi scusi lei No 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 lei 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 Aspetti Eh Ok Non mi scusi era tutto programmato Non Oh cazzo sta frenando perché sto frenando Ah ok con R1 non mi ricordo più i tasti ragazzi Eh L'ho beccato non l'ho beccato Fantastico Eh di nuovo ragazzi 360 Oh mamma mia ragazzi Questi sono non è Non ha senso 360 in lo scopo Questo lo so però Ehi è figo Vai così l'ho beccato Eh mi scusi però Quando ci vuole ci vuole ragazzo E io metto una mina qui Tanto per fare il bastardo No così appena arriva uno Ah ah Eh eh L'ho beccato? No non l'ho beccato Fa un culo E così Aziona una bomba No no non la radio La bomba Porca puttana Stupido Gioco Ok ha ucciso Husky Husky Bel nome Vai vai What up Mi scusi Ok basta le stranzate ragazzi Stiamo cazzeggiando un po' troppo Dov'è? Ah eccolo Mamma mia Cosa cazzo è successo? Io sono ancora secondo Questo è strano Molto strano E mi stavo Eh la madonna La madonna Mi è scesa in terra Quanti giri sono? E dov'è il primo Questo vorrei chiedermi Oh salve Buon di Buon Brutto figlio di buona donna Pablo Ah non era paolo Era paolo Ecco perché capite I pabli sono bastardi Certe volte Eeeh No 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 Ne Eeeh Eeeh Ok l'ho schivato Grande Brutto figlio Tieniti questa L'ho beccato? No l'ho lisciato Oh l'ho beccato Grande Ma io sono una macchina da guerra ragazzi Anche se arrivo terzo Non è che mi importi più di tanto E lei Lei Eeeh No Dio santo volevo buttarlo sotto anche se Eeeh No forca Ma dov'è che sta Cazzo Direzione sbagliata Leggermente Leggermente Prendiamo qualche missile Ragazzi di nuovo facciamo altro Eeeh Un altro volo dell'angelo Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Cazzo Dai prendi il checkpoint Ok perfetto Questo è l'importante Lanciamo un missile dietro la cazzo di cane Così casomai colpisco qualcuno Nolli porca puttana Povero barile della spazzatura Nennè Non maltrattate così i barili della spazzatura Porca puttana Ok Vabbè C'è un altro uomo lì Ci rifaremo Uh Missile in missile Questa è da Veramente da Film Ragazzi Cazzo E becchiamolo così Se ci riesco Mamma mia Raso terra ragazzi Raso terra Questa è perfetta Questa era perfetta Da sogno ragazzi Da sogno Ok 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 Eeeh Eeeh Prima persona Prima persona What the Mamma mia Macchina da guerra 3.0 Guardate come balla con i Con i comandi Eccolo E un altro ragazzi Facciamo un altro Oh mio Dio Oh cazzo Oh merda Oh cristo santo Ah ragazzi Le vertigini Porca puttana Pablo stavo cercando di fare una cosa abbastanza epica Perché mi hai sparato Dannati i pabli I pabli sono sempre in mezzo ai coglioni Eeeh Ok Cioè Come cazzo speri di prendermi da là ciccio Ciao Oh l'ha schivato No No lui è il mio nemico mortale adesso Prima prendo questo però eh Mi scusi Oh cazzo Dov'è lei Dov'è La devo uccidere La devo uccidere Mi scusi Oddio 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 Ok Oddio Non l'abbiamo notato Hadbol Hadbol Perché Abdul Ah Abdul Che cazzo Porca miseria Questo posto è da malati Eh però questa gara è fantastica La metrote la preferita Oh Mamma mia Grande Grande Levati dai coglioni Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ok Ok Gira Oh lo amazzo Buon Dio Che cazzo è successo Sembra che stia partorendo quest'auto E' lì E' lì E lo beccheremo ragazzi Quanto ci scommettete Ditelo nei commenti Uh per poco Oh l'ho ucciso No L'ho ucciso Non lo so Bene Mi sa che arriveremo terzi ragazzi Non c'è nulla da fare Ma io mi metto a cazzeggiare Sapete già che cazzeggio E mi piace cazzeggiare Quindi Mi sa che arriveremo terzi C'è uno che vola ancora Lei Oh mamma mia Lo so che sono morto alla cazzo di gana ragazzi Inutile dirmelo Ma è troppo divertente Non giocavo GTA da parecchio tempo Comunque come al solito Vi ripeto che dovete scrivermi nei commenti Quali gare bastarde Volete che io faccia Io li farò sicuramente Quell'uomo vola ancora C'è gente Che vorrebbe diventare Batman Oh Anche io Diventerò Superman O Batman Non lo so Ragazzi non ricordo più Come si fa stabilizzare l'auto Per questo Non lo so Così ragazzi Buttiamo Non lo so Missile a caso Chissà se colpirò mai qualcuno Dannazione Oh lei Oh Oh Cristo Gli è passato È morto Come cazzo è morto Ok Non mi faccio domande Ragazzi non mi faccio domande Ok Prima persona Oh mio dio Questa volta ce la facciamo Ce la facciamo Ce la facciamo È un cazzo È le vertigini È le vertigini Girati Girati auto Hai ancora tutta una vita davanti Guarda l'auto si gira da sola Questa è strano Non è che tu la Cristo santo Che è successo Non ce l'ho stato io È stato il fortilindolo Grande Guardalo Guardalo come va Come va fiero Come L'ho lanciato anch'io il missile Porco L'avevo lanciato Ma questi bastardi ragazzi Sono bastardi due volte Perché non è che Vi sparano dopo il checkpoint No Vi sparano prima Così voi dovete farvi Tutta la strada da capo E poi ritornare Dove eravate prima Ma mori Dove Ah in volo Ok sorry Io Per quanto ci provi ragazzi La mia mira fa un po' cagare E quindi Vai colpisci I barili Colpisci i bunker Non so cosa tu voglia colpire Ma colpisci Guardalo guardalo Mamma mia Ragazzi Ragazzi Qui ci vuole la medaglia d'oro Ma la medaglia d'oro Sì ragazzi Una macchina in mezzo alla strada Dannati pirati della strada Oh salve Mi scusi Mi scusi Eh si tolga dai coglioni Per cortesia eh Ma anche lei Cioè Io dico Sto camminando su una strada pubblica Per l'amor di dio Volete Togliervi Dai Cosiddetti Caglioni Eh Mamma mia Ragazzi Questo è un campo di sterminio Guarda quello come vola Continuano a volare in perterriti Senza Uh sono secondo Non so come Lì c'è il traguardo C'è il traguardo Non arriverai al traguardo Prima di me Non ci arriverai T'è nato bastardo Ah Scusate Eh Ok Non ci arriverai al traguardo Prima di me Mai Mai Oh cazzo Oh cazzo Vai vai arriva arriva Oh yes baby Bene ragazzi Questa era la gara di oggi Non so È la prima volta che la faccio Per cui Non so Ho detto cazzate su cazzate Ma dalla prossima volta Faremo delle gare più Ad esempio con rampe Un circuito Diciamo Non andare avanti indietro Come abbiamo fatto adesso Questa era la prima volta Per cui Mi sono un po' sbizzarrito Mi sono perché Non lo facevo davvero Da parecchio tempo Una gara del genere E Diciamo che Sì È la prima volta Quindi ho scelto una gara a caso Perché non riuscivo a entrare Nella partita Ho scelto una gara a caso Ve l'ho detto L'ho giocata Quindi ditemi ovviamente Nei commenti Cosa volete che io faccia Quale gare volete che io faccia E ovviamente Io rispetterò le vostre esigenze Facendo le gare Che volete che io faccia Quindi Spero che questo video Vi sia piaciuto Intanto vediamo quest'uomo qui Che non so cosa stia facendo Mettiamo un filtro droga Aspettate Oh Smokey everyday Da 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 Ok Arrivato secondo Bene ragazzi Spero quindi che Dieci minuti ci abbiamo messo Cazzarola È stata lunga Quindi Sì Quanti soldi Sette mila Vabbè Vabbè Dai dai Ci si può Accontentare Quindi Dopo non aver giocato Per parecchio tempo al gioco Spero che questo video Vi sia piaciuto Cristo il dio Che cazzo è successo Pablo Sei un alieno Dannato Pablo Ok Mi è piaciuto D'accordo Mi è piaciuto Quindi spero che questo video L'Abdol non è piaciuto Ragazzi Non piace mai a nessuno Queste gare Non piace a nessuno Quindi spero Che questo video Vi sia piaciuto Se si commentate Iscrivetevi Condividete Mettete mi piace Noi ci vediamo come sempre Come al solito In una prossima gara Di GTA 5 online E dovrò anche finire le rapine Fatemelo dimenticare Dovevo finire anche le rapine Con amici Mentre le gare Io le faccio da solo Con amici Non importa però Le faremo Quando è più possibile Una serie infinita Diciamo così Che farò uscire Di solito la domenica Il sabato Non ne ho idea quando Come le rapine In poche parole Ah come capita ragazzi Diciamo così Quindi Ci vediamo come sempre Come al solito Io vado in free mode Perché non mi piace Come sempre Come al solito In un prossimo Videogameplay Ehi Bye Bye Bye